Nell'anno santo della misericordia, Papa Francesco ha varcato la porta santa della Basilica di San Paolo fuori le mura nel giorno in cui la Chiesa celebra la conversione dell'Apostolo delle Genti, con il vescovo ortodosso Gennadios e il rappresentante anglicano a Roma David Moxon. E nell'Omelia per la celebrazione ecumenica dei Vespri ha sottolineato che non può esserci un'autentica ricerca dell'unità dei cristiani senza un pieno affidarsi alla misericordia del Padre. Poi il forte appello. Chiediamo anzitutto perdono per il peccato delle nostre divisioni, che sono una ferita aperta nel corpo di Cristo. Come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Cattolica voglio invocare misericordia e perdono per i comportamenti non evangelici tenuti da parte di cattolici nei confronti di cristiani di altre Chiese. Allo stesso tempo invito tutti i fratelli e le sorelle cattolici a perdonare se oggi o in passato hanno subito offese da altri cristiani. Non possiamo cancellare ciò che è stato, ma non vogliamo permettere che il peso delle colpe passate continui a inquinare i nostri rapporti. La misericordia di Dio rinnoverà le nostre relazioni. Nel giorno in cui si è chiusa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il Vaticano e la Federazione Luterana Mondiale hanno annunciato che il 31 ottobre a Lund, in Svezia, Papa Francesco e i Vescovi Luterani a guida della Federazione presideranno una commemorazione ecumenica congiunta in occasione del 500esimo anniversario della Riforma. Grazie a tutti.